live kicking video e vegeti la band di bologna guidata da curreri si ripresenta a sanremo e la loro quinta partecipazione al festival stiamo parlando del gruppo musicale degli stadio che gareggiano con il brano un giorno mi dirai il testo oppone l'attenzione sul rapporto tra un padre e una figlia riguardo il tema delle rinunce in amore la storica band bolognese cercherà di farsi strada tra i ragazzi dei talent e le carte non gli mancano basti pensare che il brano al momento delle selezioni ha commosso l'intera giuria di questo è enormemente soddisfatto gaetano curreri leader e vocalist del gruppo durante un'intervista il cantante ha parlato delle sue tante collaborazioni soprattutto quelle con vasco rossi e lucio d'anno a proposito di quest'ultimo gli stadio hanno deciso di proporre nello spazio dedicato alle cover il brano la sera dei miracoli un omaggio al compagno bolognese di tante avventure gaetano curreri a grandi doti di interprete e non ha niente da invidiare alle nuove promesse uscite dai talent ma la vittoria finale al festival degli stadio è è quotata a 20 volte la popolazione